Allora preghiamo insieme un attimino Dio Consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti che vi ha convocati a inaugurare questo reparto vi confermi con la sua grazia perché rendiate un fedele servizio a Cristo presenta nelle sue membra Egli vive e regna nei secoli dei secoli E la benedizione di Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen L'abbiamo tagliato Sì, allora si fa il primo contatto eventualmente le assistenti sociali non abbiamo che differenza di ruolo perché la presa in carico del Presidente è anche un'altra personale quindi se funzioni per una persona Grazie 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 Grazie